Naturalmente l'oculistica al di là di qualche opinione non condivisibile ha un ruolo fondamentale soprattutto nella soddisfazione e nell'attività di tutte le persone con cui noi ci confrontiamo. Abbiamo delle criticità che possono naturalmente sempre aumentare la sicurezza e i migliori risultati degli interventi che sono il nostro biglietto da visita. Noi ogni anno effettuiamo 650.000 interventi di cataratta quando l'Ista dice che sono nati nel 2018 410.000 bambini quindi una volta e mezzo. Quindi questo organizzativamente e a livello di capacità è un'impresa straordinaria. Poi abbiamo oggi molto caldo il problema delle maculopatie che interessa una persona dopo i 70 anni vi ricordo che ci sono 400 milioni di malati nel mondo e 600.000 in Italia. Ogni anno se ne aggiungono altri 80.000 noi dobbiamo, cioè ovvio che questa è un'emergenza ovvio che non vogliamo responsabilizzare nessuno però quando si manifesta così cogente una necessità dobbiamo rimboccarci le maniche per dare la terapia a tutti e non possiamo permettere che il 70% di queste persone abbia un'assistenza a livello di terapia che non è la migliore e la meglio adeguata. Ma è così in tutto, il congresso farà il punto della situazione su questo quindi diciamo che oggi con la conferenza stampa abbiamo avuto già un buon passo di inizio e speriamo di riuscire a creare quella sensibilità, quel goodwill che per noi oggi è indispensabile. Il nostro obiettivo è dare le cure migliori a tutte le persone in modo che tutti se ne possano utilizzare e usufruire. Noi non vogliamo fare scelte o discriminazioni. Per me una persona ha lo stesso valore di un'altra persona indipendentemente dall'età, indipendentemente dalla professione, indipendentemente dall'importanza. Ho grande rispetto delle persone che hanno avuto successo nella vita, nelle persone importanti ma sono obbligato ad avere altrettanto rispetto nelle persone anche più umili e che magari hanno avuto una vita più difficile. Perché io alla fine devo decidere di penalizzare uno a vantaggio di un altro? Con questa strana affermazione lancio una richiesta di attenzione a chi ha la capacità di decidere. Noi ci siamo spesi tantissimo in questi ultimi anni per avere ascolto e per avere condivisione di questi problemi. L'ascolto l'abbiamo avuto, abbiamo avuto anche l'approvazione ma poi abbiamo un problema burocratico organizzativo di rendere queste cose usufruibili. Cioè tutti sono d'accordo ma poi alla fine manca sempre un qualcosa, manca sempre un imprevisto, manca sempre qualcosa che io capisco perché non voglio criticare nessuno. Però in medicina contano i risultati. Inoltre le lezze Per questo inizio è un frunale, un'altra parte. L'abbiamo a perdonare il nostro gruppo di effetti